Le allergie respiratorie sono una malattia cronica che affliggono pazienti adulti e bambini con difficoltà nell'approccio che tipicamente hanno condizionato la qualità della vita dei pazienti. Se pensiamo che il 25-30% della popolazione soffre di una patologia allergica nelle nostre popolazioni occidentali, questo avviene a motivo delle aree inquinate che respiriamo, in modo specifico il particolato in sospensione dei motori diesel, il PM10, che si mescola insieme agli allergeni respiratori inalanti che tutti conosciamo, che possono essere i pollini delle piante, piuttosto che gli acari della polvere, piuttosto che alcune alberi si creano, dicevamo, delle miscele inedite tra gli inquinanti degli ambienti outdoor con gli allergeni che il nostro sistema immunitario riconosce come stranei e quindi innesca una reazione infiammatoria che porta all'ostruzione respiratoria nasale, alla ipersecrezione, fino a delle vere e proprie rinosinusiti o rinoadenoiditi nel caso del coinvolgimento delle adenoidi nel bambino, cosa molto frequente. In passato gli interventi chirurgici erano fortemente controindicati per questi pazienti che soffrono di allergie, in quanto la cruenza, l'aggressività del trauma chirurgico portato a livello delle delicate mucose respiratorie rendeva questi interventi fortemente sconsigliati. Oggi, come detto nelle precedenti clip, l'introduzione delle nuove tecnologie in ambito torino-lingoiatrico in modo specifico per il ripristino del benessere respiratorio di adulti e bambini, viceversa indicano in maniera specifica il trattamento chirurgico, a patto che sia mini-invasivo ed aggiornato agli anni 2016-2017 con le nuove tecnologie oggi a disposizione, indicano un trattamento chirurgico endoscopico per migliorare i sintomi dell'allergia e recuperare a un buon flusso di aria la via respiratoria del nostro paziente. Tante sono le migliorie ottenibili con un approccio di questo tipo e quindi sono sicuramente la riduzione della iperreattività, della iperresponsività delle vie aeree del nostro paziente. Quindi pazienti trattati con le tecniche mini-invasive o torino-lingoiatriche sono pazienti che una volta esposti all'allergene scatenano reazioni allergiche estremamente minori, una contro dieci. Sono pazienti che hanno meno secrezione nasale, sono pazienti che quando si raffreddano, anche con raffreddori stagionali episodici, virali piuttosto che batterici, vanno incontro ad una guarigione molto più rapida. Sono raffreddori che non sono più malattie epocali che durano 10-15 giorni, ma se la cavano con solamente 1-2 giorni di terapie blande con lavaggi nasali piuttosto che decongestionanti. È un pochino come se il naso del paziente allergico trattato con queste moderne tecnologie di cui stiamo parlando oggi fosse più forte e più capace di rispondere agli insulti esterni, infettivi o atmosferici con minore reattività allergica e questo è un altro grande vantaggio ottenibile con le nuove tecnologie. Inoltre sono dei nasi che sono più resistenti alle malattie delle basse vie respiratorie. Noi sappiamo che un approccio oggi è oramai integrato, quello che avviene nella punta del naso si riverbera in maniera istantanea fino all'alveolo più terminale dei bronchi, quindi poter avere un naso in ordine con un flusso aereo, una reattività, una mucosa rigenerata dopo il trattamento meno invasivo vuol dire avere meno episodi bronchiali, polmonari e questo pensiamo quanto sia importante negli anziani per la prevenzione delle broncopolmonite e per il miglioramento delle performance respiratorie to cure del paziente critico per esempio in multiterapia anziano, ma pensiamo viceversa nel contrattare quanto questo è utile nei bambini in cui la ridotta dimensione della via aerea porta alla conseguenza naturale che ogni infiammazione dell'adenoide, ogni infiammazione della tonsiglia, ogni raffreddore che perduri per troppi giorni abbia una ricaduta molto importante sulla salute del bambino con episodi febbrili, sindromi parainfluenzali e spesso con conseguenze molto negative per la gestione familiare del bambino stesso che viene un pochino ad essere alterata e tutta centrata sulla malattia del bambino.